Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qui e con voi c'è Joe Axful, come al solito Andiamo subito con un giocatore singolo, centro di morte E noi siamo arrivati al secondo, diciamo, capitolo Difficoltà normale, personaggio volevo Alice E al via partito ragazzi, spero vi sia piaciuto il primo episodio Perché l'ho registrato poco fa e ancora non ho caricato Un'altra cosa, su questo gioco ho notato che la voce si sente differente Su Minecraft si sente in un altro modo, non lo so, qual è la mia impressione Oppure è vero Prendiamo il kit medico subito, prendiamo le munizioni e cambiamo arma Fucile a pompa cromato, non mi serve Pistola a mitragliatrice invece, sì Perfetto, prendiamo anche le munizioni un'altra volta E questa è la stanza di sicurezza ragazzi, è tipo checkpoint E da dove siamo arrivati prima è tutto blindato e E anche da dove dobbiamo uscire Possiamo anche sparare da qui E facciamo con l'aria e apriamo la porta Ok Apriamo prima questo Acquacciando di concetti reali Ok, ho capito Comunque la prima volta che ho giocato sembrava che c'erano più zombie Non lo so Forse è la mia impressione Comunque mi sto finendo anche la voce perché è la quarta volta che registro Perché ho fatto Oddio Aiuto No E questo ha dove sviluppo? Uccidetemelo, uccidetemelo, aiuto Uccidetelo Dai che mi sta ammazzando E dai ci avete messo un'ora Comunque prendono sempre a me, non so perché Vi stavo dicendo Ah, curami, curami Brava Anzi, bravo Nick Grazie Ok Ok Ok, vi stavo dicendo Non me lo ricordo più perché È colpa dei zombie Ah sì, è la quarta volta che registro Perché ho registrato prima due puntate E poi ho dovuto cancellarle Perché la voce non si sentiva alta Il gioco si sentiva altissimo E io bassissimo Ok, comunque Quello che sta facendo Si sta pettinando Che sta facendo Chi è? Chi è? Un charger sta pettinando lo scioglio Ok Mori, mori Ok Ok Comunque gli zombie spawnano a caso Perché Ok Perché prima Quando ho registrato prima Non c'erano I stessi zombie Io vado avanti Sperando che questi mi coprono le spalle Ma non lo fanno Andiamo via Corri Chi c'è qui? Ups Ok Che fai tu? Lì Non sparare con panni Io non mi ho sparato Lui mi si mette davanti Ok Il tubo bomba Oh Tensione Sono finiti Sì Nessuno Non c'è nessuno Ok Attento all'acido Attento all'acido Non calpestate quella roba Ehi Perché c'è nessuno? No Sostituisci l'arma Con poche munizioni Ma questa è una moto Che ci faccio E poi Non muore Mi ho sparato Aiuto Aiuto No Non voglio morire Ma dai Sempre io muoio Ma come mai Ok 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 Mi cura Fatemi curare un attimo Oh Finalmente Ok Troppo tranquilla La situazione Dove andare di qua Oh la gente Prendiamo un po' Stranciare la nota Ma no Non ci faccio nulla Andiamo via Oh la gente No 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 Sempre a me prendono Questi Ok Andiamoci 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 Ci stanno facendo Da pezzo Ok Mi sa Dobbiamo andare qui Perfetto Oddio No no Calmi 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 Ok 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 Andiamoci Ok Muori Muori Ok Vediamo un po' Chi c'è Ok Ok Andiamoci Questo Liquido Verdastro Non mi piace Comunque A parte scherzi Andiamo un po' Oh non c'è più nessuno Vediamo tutto quanto Perfetto Ci siamo riforniti Ragazzi Perfetto No no Oh oh Aiuto Oh aiuta Ok Ok Oh O Boomer ok bravo ha preso il pronto soccorso bravissimo ok andiamo chi è cosa c'è? una moto muori andiamo ragazzi spero vi stia piacendo ragazzi a me mi entusiasma molto questo gioco vediamo un po' che c'è qui oh quanto bella gente mica tanto bella no ancora il Charger quello dove? va scappa hai paura eh ah 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 cura 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 grazie 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 coach andiamo oh un'altra armeria ragazzi andiamo questo no prendiamo le munizioni oh il laser oh il laser andiamo un po' il kit ce l'ho io già e l'arma mia va bene questa andiamo un po' andiamo un po' parliamo un po' con il proprietario del negozio d'armi interessante ecco le mie scorte mi ho procurato un po' di coca in quel supermercato vado a la strada che porta al centro commerciale per una concorra dobbiamo combattere i disugno ragazzo procurati nelle bibite che stronzo suonata attacco in arrivo ragazzi aiuto dobbiamo prendere la coca cola eccola lì pensate voi la coca cola e dobbiamo rischiare la vita per la coca cola per lui che ingiustizia ok copritemi copritemi aiuto copritemi per caso no attento dai dove andare io avanzate noi non indeterciate no dai andiamo via oh argento e dai levatevi andiamo andiamo correte correte ragazzi correte 1 a 100 scappa aiuto aiutatemi aiutatemi non posso sparare io ok corri 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 ecco portare con subito subito oh grande aprici per adesso oh mi ha fatto scoppiare tutto mi ha fatto scoppiare tutto no sempre questo mi prendo sempre a mira ragazzi andiamo andiamo no 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 hai infastidito il witch sto sempre per terra io ragazzi oh oh il charger grandi mentre mi curavo hanno fatto esplodere va un po' l'autobot è qui come si chiama un bel botto gli ho fatto fare no non sparate a me però mmm aiuto qui le sopra tetto come fanno a stare sopra tetto guapà no no e dai sempre a me no e ditemelo no corri 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 oh gli allarmi delle macchine no eh no no fermo ho finito le munizioni ragazzi oh la stanza di sicura siamo entrati tutti perfetto ragazzi finito l'episodio ragazzi nooo sono arrivato secondo questa volta per uccisioni vediamo un po' invece per quelli speciali ha inflitto più danni al tank 1142 ragazzi primo e secondo sono più bravo che il computer no oh qui ha inflitto più danni al witch 701 eh probabilmente l'ho ucciso io e invece niente questo è l'inizio del terzo episodio ragazzi spero vi piaccia la serie perchè ho intenzione di farla perchè a me piace molto questo gioco e lo giocherò molto oh guardate quante belle mani ciao ok ragazzi vi saluto ciao ragazzi ciao 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 ciao